... Incidente nel pomeriggio di domenica 18 giugno, poco prima delle 18, sulla 4.60 Feletto. Una Renegade Jeep Sport con a bordo una coppia si è ribaltata su un fianco dopo essere uscita di strada ed essere finita con la ruota contro un muretto di cemento che delimita il fosso a lato carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri e i vigili del fuoco di Bosco Nero. Ferita ma non in pericolo di vita, la donna seduta sul sedile del passeggero, illeso il conducente. La dinamica è il vaglio dei carabinieri di Rivarolo. Grazie. 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 Grazie.